Mentre allo stadio prosegue il trasloco degli arredi in seguito alla giudicazione mediante asta da parte di una ditta siciliana del materiale inserito nell'inventario fallimentare del vecchio e fallito Foggia Calcio dei Sannella, l'azionista di riferimento del Foggia, Nicola Canonico, sgombra il campo da qualsiasi equivoco. Il patron torna a dire la sua, lo fa in una nota in cui specifica che lo Zaccheria non corre alcun rischio di chiusura, in primis perché il problema legato al sistema informatico del GOS sarà approntato nei prossimi giorni e a farlo sarà il comune di Foggia che con una determinazione dirigenziale dello scorso 22 dicembre ha provveduto ad affidare ad una cooperativa il compito della fornitura del materiale necessario. Al resto penserà lo stesso Nicola Canonico. Il Foggia è un club che merita la Serie A e pertanto provvederò ad allestire lo stadio Zaccheria a mie spese acquistando arredi nuovi e moderni per dare una nuova veste al tempio del calcio foggiano. Svecchiamolo Zaccheria da un mobilio vecchio ed obsoleto, afferma Canonico nella nota diramata nella serata di ieri, conclusa con gli auguri al popolo rosso-nero per il nuovo anno alle porte e dalle porte c'è anche il calcio mercato che aprirà i battenti il prossimo primo gennaio, sei giorni prima della ripresa del campionato che per il Foggia coinciderà con la sfida interna col Picerno.